su top stars ragazzi fan più più elarguiti più più belli più leggendari del canale si ricorderanno questo gioco ma innanzitutto prima di presentarvi questo gioco per i nuovi per quelli che vogliono nuove news su questo gioco per quelli che mi chiedevano nuove serie su questo gioco lo feci tipo 2-3 mesi fa vi dico che questo è un video nuovo sul canale ragazzi vi avevo annunciato che sarebbe stato ci sarebbero state insomma innovazioni all'interno del canale bene eccole qua ma questo non è un video qualsiasi e non è un giorno qualsiasi questo perché questo è il mio ultimo video che registro da minorenne infatti il giorno 20 novembre il giorno in cui uscirà spero questo video sarà il mio compleanno quindi sarò ufficialmente maggiorenne maggiore responsabilità e quindi spero di riuscire a portare nuovi video nuove serie a rivitalizzare questo canale che si sta un po' affievolendo just legendary a causa un po' dello status di royale cleanse un po' a causa della scuola che mi ruba tempo e quindi non riesco ad essere più attivo iscrivetevi e mettete like se volete nuovi video perché arriveranno sono rinato sono tornato più leggendario che mai ragazzi detto questo ringrazio tutti quelli che ovviamente mi faranno gli auguri ringrazio super marco che mi li ha fatti in anticipo ieri così porta sfortuna grazie super marco ti voglio benissimo ditemi ragazzi se volete questo gioco innanzitutto adesso lo introduco stiamo facendo il chest opening delle fricese se lo volete come serie fissa perché mi hanno contattato gli sviluppatori mi hanno chiesto se voglio ok ho trovato una carta rara a silva se voglio fare video su questo gioco mi creano un clan mi danno delle gemme mi permettono di fare contenuti esclusivi che solo io in italia posso portare quindi se volete questo gioco chiedetelo in tanti in pratica è un card battler come su clash royale con un gameplay leggermente diverso con le chest e con qualche modifica ragazzi ora andiamo ad aprire il baule gol che si raggiunge con 10 gol poi andremo a vedere il chest opening debruin ragazzi la carta che ci serve è bonucci perché è davvero fortissimo royce bicicletta finalmente possiamo portare bicicletta una carta che uso molto placcaggio placcaggio infliggi tre punti danno a un giocatore avversario se anche questa utilizzo modric ragazzi purtroppo non riusciamo a trovare adesso abbiamo il baule video guardate questa è la mia formazione possiamo potenziare runei possiamo potenziare debruin e queste due carte io lo farei subito potenziamo subito le carte ragazzi questo è il deck che uso attualmente non uso barzagli perché ancora lo devo potenziare lo ho a livello basso bonucci l'ho al 3 quindi l'ho messo ma mi servono altri bonucci perché perché bonucci è davvero una carta che sposta gli equilibri poi vedremo anche l'abilità vedremo tutto vi spiegherò il gameplay strada facendo potenziamo debruin potenziamo questa che sarebbe un incantesimo come vedete già anche lo stile del deck è leggermente diverso ma poi vedremo potenziamo anche runei non scherzavo perché non abbiamo i soldi siamo poveri detto questo apriamo anche il baule baule si il baule bronzo il baule di bronzo cash vidal perfetto ragazzi vidal è una delle carte nuove non ho trovato ancora ibra che è nella nuova divisione ora vi faccio vedere le carte della divisione draxler e david luiz david luiz è molto molto forte so nella divisione 6 sto nerdando tantissimo come vedete ho trovato bonucci ho trovato barzagli ho trovato vidal non ho trovato ancora ibraimovic ragazzi e la carta attacco totale la carta epica che è molto molto forte anch'essa vediamo nel negozio abbiamo cross che ho che ho sbloccato vidal che possiamo potenziare vidal vediamo quanto costa 35 anche semplicemente per x pari ci conviene potenziare il sacrosanto vidal livello 6 infatti ragazzi siamo potenziati a livello 6 ma guardate oltre a degea ora ho ad egea impostiamo subito perché le carte stanno ballando ok impostiamo subito come portiere subito gg buffon dopo la prestazione mondiale anche se l'italia non si è qualificata per le interviste tutto è doveroso mentre il nostro il grande grande gg buffon come capitano della nostra squadra difesa della porta della just legendary squad della squadra di just legendary troviamo dei bruin non abbiamo trovato bonucci oh si ragazzi finalmente bonucci bonucci ragazzi con la carta spostare gli equilibri no scherzo vabbè comunque bonucci buonissimo ragazzi se lo potenziamo al 4 diventa una carta molto molto forte l'abbiamo trovato non l'abbiamo trovato nei bauli più forti l'abbiamo trovata nel nella come si chiama questo non è la silver perché è insomma marrone nella chest si chiama baule star se non sbaglio se non ricordo male comunque cash vediamo l'ultima chest poi andremo a giocare vi spiegherò velocemente il gameplay poi magari se volete se volete nuovi video su questo gioco ve lo spiegherò più dettagliatamente ma ora giocheremo solo per divertirci ma anche il baule video me lo stavo quasi dimenticando è un baule speciale che si può prendere guardando 4 video pubblicitari a scelta insomma quindi è un baule esclusivo che c'è solo qui draxler niente ragazzi sono un bonucci andiamo subito a giocare allora il gioco il gameplay stesso lo potete capire solo se giocate ad airstone ora ve lo spiegherò brevemente siamo contro ok bene ok inizio l'avversario ci danno all'inizio elisir 2 elisir quindi io del direi marcello e lascerei così possiamo cambiare le carte all'inizio perché inizia attualmente l'avversario adesso ragazzi come vedete al nostro turno abbiamo 2 elisir dobbiamo mettere carte per 2 elisir quindi mettiamo ames rodriguez che ha l'abilità di attaccare subito quindi attacchiamo subito deghe facciamo 2 punti di danno alla sua torre principale alla sua porta principale anche lui ha ames ma lo ha potenziato come vedete gli altri giocatori normali hanno alcuni dell'abilità per esempio questa è quella di bonucci no non l'ho attivata ancora cioè non si è attivata comunque solitamente i giocatori non possono attaccare subito a meno che non hanno l'abilità e devi aspettare per forza un turno hai elisir che aumenta gradualmente che ti permette di giocare i giocatori man mano sempre più forti ok l'ho giocato a guero a ghero come vedete questa è l'abilità che può attaccare due volte i fila non dobbiamo permettervi del tempo ragazzi io mi impanico subito ok attenzione andiamo così potenziamo bonucci con cavani aggiungiamo il muro su bonucci potenziandogli la difesa andiamo a distruggere il kun a guero detto questo passiamo c'è un limite di tempo anche per le mosse e ok vediamo lui gioca a griezmann mi sembra giochiamo chi giochiamo giochiamo runei che costa 5 e come vedete ha giocato modric io siccome ha questa abilità devo attaccarlo per forza dicevo quella rossa è la vita quella gialla è l'attacco la potenza e come vedete devo usare uno che ha 3 d'attacco quindi bonucci adesso andiamo ad attaccare diretto con cavani e siamo 8 a 7 ma attenzione perché c'è griezmann che è molto molto fastidioso a 4 di attacco è molto ragazzi mi distrugge subito cavani ci tengo molto a cavani però per fortuna cavani è protetto da runei e bonucci hanno l'abilità che concentrano l'attacco su di loro vediamo come si muove stiamo ancora aspettando lui intanto mandiamogli una faccina bella giocata oddio ci sta facendo male a bonucci aia ci ha ucciso bonucci e questo non è cosa buona e giusta ok mettiamo marsello attacchiamo griezmann e poi usiamo questa che rigenera la vita del nostro amichetto lui purtroppo ha questa abilità quindi dobbiamo passare per forza perché non voglio far morire per il momento cavani visto che c'è da guai ha debruin ed è potenziato molto ne abbiamo 6-5 per debruin lui ha 7-7-5 ha un livello superiore al nostro di debruin cosa fare adesso sinceramente ragazzi ora ok dobbiamo uccidere griezmann assolutamente quindi andiamo così così poi andiamo con debruin e questo qui non mi ricordo come si chiama oddio ragazzi aiutatemi cross se non sbaglio mannaggia mannaggia la mia vecchiaia ahia mi hanno ucciso il giocatore più forte che avevo che cosa triste ragazzi che cosa triste ora mettiamo cavani e potenziamo marsello ci è rimasto 3 di lisir 1 sicuramente ok usiamo questa abilità dovrebbe potenziare l'attacco quindi andrei a potenziare l'attacco di cavani andiamo qui ok manca il signorino ci avverte che manca il tempo andiamo a segnare il nostro primo gol contro giuliano livello 6 siamo entrambi livello 6 ma io sono livello 6 da meno tempo quindi infatti sto un po' in difficoltà sinceramente mi ha già fatto parecchio danno e ha già recuperato gli hp che avevo perso il prossimo turno attacchiamo con marsello la tattica e distruggiamo debruin perché a 5 di difesa noi abbiamo 5 di attacco e vediamo cosa fare giochiamo attualmente vediamo questo marsello muore e giochiamo a ames quindi attacchiamo 5 e 1 e facciamo gol e andiamo con ames trovo di righezza a fare qualche dannetto siamo al 68esimo quindi sta finendo la partita come potete leggere mancano 2 turni aia però però ames l'ha potenziato tantissimo ora abbiamo questa carta che dovrebbe infliggere 4 punti di danno quindi dobbiamo uccidere sicuramente ames quindi non dovrebbe fare altri danni distruggiamo ames visto che non abbiamo altre carte da giocare potenziamo la difesa di Kamani che è molto molto bassa detto questo 5 2 più 8 5 3 8 più 1 9 facciamo gli attacchi precisi ragazzi visto che facciamo lo scientifico e andiamo a 3 a 1 ragazzi siamo quando il il timer diventa dorato siamo nella parte finale della partita non c'è il sadden però siamo nella parte finale della partita l'ultimo turno tocca a noi spetta a noi e andiamo ad attaccarlo siamo non pari ok andiamo 5 vai 5 5 5 5 e 1 andiamo a fare il 4 a 2 4 a 2 e andiamo a vincere chiudere definitivamente la partita vittoria per la leggenda 4 a 2 non poteva iniziare meglio questo video baule stelle ragazzi che top che top quality baule stelle ragazzi io direi ok cosa è successo cosa mi è successo abbiamo trovato il baule baule stella che sarebbe il baule silver le baule d'oro in pratica anche se è silver e penso che possiamo salutarci per questo video ragazzi non voglio mettervi troppo carne alla braccia già abbiamo fatto parecchio di questo gioco se volete vederlo ancora sul canale vi invito a lasciare un mi piace scrivere un commento e rispondere magari anche al sondaggio detto questo noi ci lasciamo qui ci vediamo come al solito al prossimo video io ti